Confartigenato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079 28 06 98. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee, telefono 079 27 1280. TG12, ben trovati, edizione di venerdì 7 febbraio. Vediamo insieme i principali titoli della giornata. Il presidente Sergio Mattarella sarà ospite a Sassari in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico e del monumento alla Brigata Sassari. Scoperto un negoziante bengalese che vendeva alcolici minorenni, sospesa attività commerciale per tre mesi, l'uomo rischia il carcere per un anno. Inaugurato a Sassari spazio, cassa depositi e prestiti nella sede della Fondazione di Sardegna, credito agevolato per imprese e pubbliche amministrazioni. Come abbiamo visto dai titoli, l'università inaugura l'anno accademico e sceglie come ospite d'onore il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo di Stato sarà a Sassari il 24 febbraio, terrà diverse visite istituzionali e inaugurerà il nuovo monumento alla Brigata Sassari. Vediamo insieme il servizio di Marco Sanna. L'università di Sassari inaugurerà l'anno accademico 2020-2021 con una cerimonia che avrà come ospite d'onore il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La visita del capo di Stato è fissata per il prossimo 24 febbraio. La notizia è stata confermata dall'università che ogni anno invita all'inaugurazione, momento in cui si fa il punto sullo Stato e gli sviluppi dell'istituzione, un'eccellenza nazionale nel campo degli studi o alti rappresentanti dello Stato. Nel caso del presidente Mattarella, esperto, giurista e professore, le due figure si coniugano. Altri presidenti della Repubblica che hanno partecipato all'inaugurazione dell'anno accademico sono stati Giorgio Napolitano nel 2012 e Antonio Segni nel 1962. Oltre a presenziare alla cerimonia con un Alexio Magistralis, Mattarella visiterà le istituzioni locali e sarà testimone dell'inaugurazione del nuovo monumento alla Brigata Sassari in Piazza Castello. Sergio Mattarella, nato a Palerno nel 1941, è un politico, giurista, accademico e avvocato italiano. Dodicesimo presidente della Repubblica, dal 1983 al 2008 è stato deputato, prima per la democrazia cristiana, di cui fu vice segretario, e poi per il Partito Popolare Italiano, la Margherita e il Partito Democratico. Ha ricoperto la carica di ministro della pubblica istruzione, è stato vicepresidente del Consiglio, ministro della difesa fino al 2001 e infine giudice costituzionale dal 2011 fino all'elezione a presidente. E siamo alla cronaca. Un negoziante bengalese è stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato mentre vendeva alcolici a quattro ragazzine di 14 anni. L'uomo era già stato sanzionato ad agosto, ora rischia il carcere per un anno. Il servizio è di Clizia Stangoni. Durante l'attività di controllo in un esercizio commerciale in via il Carmine nei giorni scorsi, gli agenti in borghese della Polizia Locale sono rimasti insospettiti dal forte afflusso di giovani che si recavano in un'attività commerciale, sorprendendo il negoziante bengalese mentre vendeva alcolici a quattro ragazzine di 14 anni che successivamente si sono allontanate con le bevande. La Polizia è quindi intervenuta convocando negli uffici di via Carlo Felice le famiglie delle giovani. Il bengalese è stato denunciato a piedi libero all'autorità giudiziaria. È la seconda volta che l'uomo è stato sanzionato per lo stesso reato. Per questo motivo è stata disposta alla chiusura immediata dell'attività per un periodo di 30 giorni. Il bengalese potrebbe rischiare anche la condanna ad un anno di carcere. L'operazione, come abbiamo visto dalle immagini, è stata svolta dalla Polizia Locale. E cambiamo pagina. Inaugurato questa mattina a Sassari, alla Fondazione di Sardegna in via Carlo Alberto, il secondo spazio Cassa Depositi e Prestiti per Imprese e Pubblica Amministrazione. E il secondo in Sardegna dopo Cagliari. Vediamo il servizio. Inaugurato a Sassari nella stade della Fondazione di Sardegna in via Carlo Alberto, il secondo punto informativo della Sardegna, spazio CDP. All'evento erano presenti, oltre al Presidente dell'ente Antonello Cabras, il Sindaco di Sassari, Nanni Campus, l'assessore regionale bilancio Giuseppe Fasolino, il commissario straordinario della provincia Pietrino Fois e i rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti, Matteo Rusciadelli e Antonio Mancini. L'accordo era stato siglato lo scorso dicembre a Cagliari. Il progetto consente al gruppo attivo dal 1850 di supportare la crescita del territorio, finanziare investimenti pubblici e privati, supportare le start-up e trovare soluzioni creative per le imprese, in particolare per quelle piccole e medie. L'impegno è di veicolare 83 miliardi di euro per la crescita del Paese e sostenere la competitività di 60.000 imprese italiane. Nel nuovo spazio CDP di Sassari sarà possibile incontrare referenti di Cassa che forniscono supporto integrato a soggetti sia pubblici che privati. Nei locali della Fondazione di Sardegna dedicati a questa attività è infatti possibile incontrare gli stakeholder del luogo per incrementare la capacità di ascolto e di sostegno territoriale del gruppo CDP attraverso la promozione dell'offerta dei prodotti e dei servizi di cassa, anche con l'organizzazione di eventi e di altre occasioni di confronto per lo scambio di informazioni e opportunità, tra cui progetti infrastrutturali e di housing sociale, percorsi di formazione manageriale e progetti di innovazione e filiera. L'obiettivo è quello di costituire entro il 2021 una rete territoriale integrata a livello nazionale attraverso dei punti informativi presso le fondazioni bancarie. Restiamo in tema di banche. Il Banco di Sardegna assumerà 300 giovani in tutta l'isola dopo un accordo con i sindacati. È però previsto il prepensionamento di 600 dipendenti. Vediamo il servizio di Clizia Stangoni. Aperte le candidature per 300 giovani al Banco di Sardegna che vogliono intraprendere la loro carriera nel sistema creditizio isolano. Il Banco di Sardegna ha siglato un accordo con le segreterie sindacali dei bancari sulla base del piano industriale previsto per il 2019-2021 a seguito dell'acquisizione della Banca Sarda del gruppo Biper. I nuovi ingressi andranno a rinforzare un organico che prevede nel prossimo quinquennio il prepensionamento di 600 dipendenti a partire dal prossimo marzo. È possibile inoltrare la propria candidatura sul sito del Banco alla Voce Lavora con noi, ma al momento non sono stati resi noti i requisiti occorrenti per partecipare alla selezione. Si parla genericamente di giovani e si presume che debbano essere quantomeno laureati. Ci occupiamo ora di sanità. L'Unione Italiana Cecchi denuncia le gravi carenze del servizio sanitario per le visite e le certificazioni dei cechi totali o ipovedenti. La sezione territoriale afferma che l'ATS non mette a disposizione macchinari adeguati alle normative vigenti e le commissioni mediche non funzionano in maniera adeguata. Il servizio è di Marco Sanna. L'Unione Italiana dei cechi e degli ipovedenti, sezione territoriale di Sassari, denuncia quello che sempre più diventa inspiegabile a chi è stato colpito da cecità assoluta o ipovisione grave. Lamenta gravi disservizi nella sanità pubblica il presidente territoriale dell'Unione, Francesco Santoro, con una lettera aperta indirizzata all'assessorato regionale della sanità. La informo, dice la lettera, che da troppo tempo è diventato praticamente impossibile sottoporsi ad un esame per sé semplicissimo, il cui nome è Campo Visivo Binoculare, secondo la metodica di Zingrian Gandolfo. Questo esame si effettua su un macchinario usato dagli oculisti, conosciuto come perimetro, strumento all'avanguardia in dotazione nel servizio sanitario del nostro territorio, ma sprovvisto dell'aggiornamento che permette il controllo con la metodica ufficiale, resa obbligatoria per gli accertamenti della cecità civile. A questa disfunzione, già di per sé grave, continuano gli associati, dobbiamo aggiungere alla mancata costituzione delle commissioni medico-sanitarie per l'accertamento delle disabilità visive. Tale inadempienza impedisce l'ottenimento di tutti quei benefici previsti dalla normativa vigente, gettando sconforto e creando ulteriori disagi alle persone e alle famiglie che affrontano irreversibilmente il dramma del disagio e del mancato sostegno alla disabilità. Si chiude qui questa prima parte del nostro telegiornale. Ci fermiamo ora per una brevissima pausa pubblicitaria. A tra poco. Nuova Capolino Bentornati in studio con la pagina dello spettacolo. A partire dall'8 febbraio a Sassari, al Teatro Verdi, prende il via la stagione concertistica I grandi interpreti della musica. Un evento suddiviso in otto appuntamenti fino ad aprile, con protagonisti e numerosi musicisti di fama internazionale e locale. Vediamo il servizio di Clizia Stangoni. A Sassari, l'8 febbraio, il via l'undicesima edizione al Teatro Verdi della stagione concertistica I grandi interpreti della musica. Un evento suddiviso in otto appuntamenti tra febbraio ed aprile, con la grande letteratura musicale. Lo spettacolo inizia questo sabato alle 21 con il duo d'eccezione formato dal violinista Uto Uggi e dal pianista Bruno Canino, i quali faranno sentire al pubblico attraverso i loro strumenti musicali un raffinato programma con musiche di Vitali, Beethoven, De Falla e Ravel. Uto Uggi, oltre ad essere un alfiere della musica in tutto il mondo della scuola violinistica italiana, debuttò la prima volta al Teatro Lirico di Milano a soli sette anni. Si distingue per la sua innumerevole bravura e prodigio nella musica, ma anche come essere umano, sensibile alle problematiche di qualsiasi spessore. Infatti, durante la serata sassarese, appoggerà un'iniziativa benefica, in questo caso quella del Rotary Club Sassari Silchi, che presenterà un progetto musicale realizzato da Don Gattano Galia, cappellano del carcere di Bancali e responsabile del centro salesiano di San Giorgio. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di poter raccogliere dei fondi per la realizzazione di una piccola orchestra musicale per i detenuti. I prossimi appuntamenti previsti saranno da venerdì 14 febbraio fino al 27 marzo, con numerosi ospiti internazionali e locali. L'ultimo appuntamento musicale sarà il 7 aprile. Tutti i concerti hanno inizio alle 21. Per qualsiasi informazione basta chiamare il numero 079 23 61 21. Il primo appuntamento della rassegna dei grandi interpreti è con l'inviolinista Uto Ugi e il pianista Bruno Canino, due personaggi importantissimi dal punto di vista della musica classica. Uto Ugi, tra l'altro, ha inaugurato la stagione 2010 proprio qui al Teatro Verdi per la prima edizione di questa rassegna. Tra l'altro, questo appuntamento è in collaborazione con il Rotary Club Sassare e Silchi per un'iniziativa di beneficenza. I due artisti faranno anche un omaggio a Beethoven nel 250esimo anniversario della nascita dove in realtà quest'anno in tutte le stagioni concertistiche ci sarà una di queste citazioni beethoveniane. Naturalmente è un concerto molto atteso perché Uto Ugi è un violinista anche molto, diciamo, in qualche maniera presente nelle stagioni concertistiche nazionali e internazionali ma anche una persona che è molto generosa nel voler proporre anche la sua attività musicale per iniziative di beneficenza di grande spessore culturale. E finisce qui questa edizione del nostro telegiornale ma prima di salutarvi voglio ringraziarvi per aver raggiunto insieme a voi, chiaramente, grazie a voi i 23.000 like sulla nostra pagina Facebook voglio anche ringraziare Simona Garau per la grafica che ci ha realizzato. Grazie ancora per averci seguito e arrivederci.